No, 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 no. È bello essere di nuovo qua. È arrivato il notaio? Qui, al centro. Mi spiace, lui è molto eccentrico. La voglio. No. Perché la gente smietta di credere in Dio Basta che tu lo ferisca E le acque si macchieranno di sangue E verranno gli squali Io me ne starò qui seduto a guardare Mentre il mondo ti divorerà La nostra priorità è di far riconsegnare l'arma Iron Man agli Stati Uniti d'America Io sono Iron Man L'armatura è io, siamo un tutt'uno Al di là di ciò che pensa la gente So esattamente che sto facendo Ho visto che cosa hai fatto a Tony Stark su quel circuito, cavolo Tu hai bisogno delle mie risorse Iron Man è un pezzo d'antiquariato La sceneggiata del pistolero solitario non è necessaria Non devi farlo da solo Spiero che tu sia pronto Via! Il signor Stark esibisce narcisismo da manuale Concordo Spara! Nerd Man E Grazie a tutti.